Cari ascoltatori di Radio Fuggino Nair, ben ritrovati con una nuova notizia flash. Finalmente arriva la notizia tanto attesa dai fan di Cesare Cremonini. Il 29 novembre 2024 uscirà Alaska Baby, il nuovo album dell'artista, già prenotabile in digitale e vinile. Un lavoro che si preannuncia come un viaggio tra introspezione e sperimentazione musicale, con un titolo ispirato agli scenari immensi e suggestivi dell'Alaska, che richiamano l'esperienza di viaggio che ha segnato profondamente l'ispirazione di Cremonini. Le 12 tracce dell'album, tra cui il singolo di successo, Ora che non ho più te, promettono di spingere ancora più avanti i confini del pop italiano, con un mix di sonorità che alterna R&B, atmosfere oniriche e profonde riflessioni personali. Il singolo Ora che non ho più te, uscito di recente, ha conquistato le vette delle classifiche, con oltre 20 milioni di stream su Spotify, Apple Music e Shazam. Una partenza travolgente per Cremonini consolida il cantante, ulteriormente il suo ruolo tra i grandi protagonisti della musica italiana contemporanea. Oltre alla musica, anche l'arte visiva ha il suo spazio. La copertina del disco, ispirata alla tomba Brion di Carlo Scarpa, è un omaggio al tema della fusione degli opposti, richiamato anche dai colori delle sfere che richiamano le aurore boreali. Ma non è tutto, per chi preordina il vinile colorato, ci sarà l'opportunità di partecipare ad una serie di firma copie nelle città di Milano, Bologna, Roma e Napoli. Inoltre, chi sceglierà il vinile nero o il CD potrà accedere, in anticipo alla prevendita dei biglietti del tour. E parlando del tour, Cremonini Live 25 segna il ritorno dell'artista sui palchi italiani per celebrare i suoi 25 anni di carriera. La tournée già sold out in molte città partirà l'8 giugno 2025 a Lignano e toccherà tutte le principali città italiane, da Milano a Roma, passando per Napoli, Bologna e Torino. La richiesta è alle stelle e i biglietti sono in vendita sui principali portali autorizzati. Inoltre, il tour vanterà collaborazioni di prestigio. American Express come sponsor ufficiale, Telesia App TV come media partner e Radio DJ come radio ufficiale, accompagnando Cremonini, in quella che si prospetta un'esperienza unica per il pubblico. Non resta che attendere il 29 novembre per immergersi in Alaska Baby e per vivere dal vivo un Cremonini più maturo e sempre innovativo. Grazie per averci ascoltato. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube Marco Puggini e di rimanere aggiornati su tutte le novità musicali qui nel nostro podcast Radio Puggini On Air. Al prossimo episodio.